A prima vista l'inversione di tendenza registrata dalle statistiche infodata pubblicate dal Sole 24 Ore è clamorosa, poiché dal 2013 alla fine del 2016, l'ultimo anno di cui sono disponibili i dati, Cremona figura tra le province lombarde in cui la disoccupazione giovanile è diminuita di più. Nel 2015, al contrario, Cremona risultava una delle province più colpite dal fenomeno dei cosiddetti NET, acronimo che indica i giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di formazione. Si trattava di un'indagine regionale svolta dalla Camera di Commercio di Varese sui ragazzi scoraggiati o disillusi. Ebbene, il 21% dei cremonesi, compresi nella fascia d'età fra i 15 e i 29 anni, risultava in queste condizioni, come NET, che non studia, non lavora e non segue corsi di formazione. Dato alto del 21% sopra la media regionale del 18,7% calcolata su stime Istat utilizzati dalle Camere di Commercio. Cremona era quarta in Lombardia della graduatoria negativa, preceduta solo da Como al 24%, Varese e Bergamo. Situazione che si ribalta nelle statistiche infodata che non considerano proprio i NET e che inseriscono nella categoria dei disoccupati, secondo i criteri applicati dall'Istat, solo coloro che cercano effettivamente lavoro, ma non lo trovano al netto degli studenti. Fatta questa precisazione, l'inversione di tendenza dal 2013, anno in cui è iniziata la legislatura che si sta concludendo con le elezioni politiche nazionali del 4 marzo, è notevole per la provincia di Cremona, che è seconda solo a Como. Nel cremonese la percentuale dei giovani senza lavoro, nella fascia dai 25 ai 35 anni, è scesa dal 12,2 al 7,7%, con un calo del 4,5%. In altri territori provinciali, come Pavia, la disoccupazione invece è aumentata nei 4 anni presi in considerazione, in assenza dei dati del 2017. La provincia di Cremona presenta alcuni dei dati migliori della Lombardia, nell'insieme decisamente migliore del Sud Italia, anche in altre fasce d'età. Tra i ragazzi dai 15 ai 24 anni, la disoccupazione è diminuita del 10,5%, scendendo dal 37,4 al 26,9%. Nella categoria 18-29 anni, la riduzione è stata del 5,8% e siamo sempre lontani dai tassi di disoccupazione fisiologici registrati nel 2007, prima della crisi, quando il dato per tutte le fasce d'età era al 4% per salire al 7,7% per la fascia dai 15 ai 29 anni.